Ben trovati in questo nuovo video, amici delle cripto Oggi cosa andremo a vedere nello specifico? Il tweet di Elon che ha portato ad avere il più 25% di DOGE, BITCOIN, tutto il discorso sull'ecologia Per chi andremo a parlare di ADA e di DOT, chi è KUSAMA? Attenzione, attenzione, quindi cominciamo, cominciamo, cominciamo Allora, allora, Elon Musk circa 8 ore fa ha deciso di fare questo tweet dove dice che stanno lavorando su DOGE Per migliorare l'efficienza delle sue transazioni e tutto sembra essere potenzialmente promettente Sarà vero? Non sarà vero? Non lo sappiamo Sarà l'ennesima speculazione, chi lo sa, però se andiamo a vedere il grafico di DOGE Ecco qui, che vediamo che proprio quando c'è stato il suo tweet Ha avuto questa bella impennata, sta continuando comunque a salire E potrebbe arrivare potenzialmente attorno a questi livelli Questo è un grafico a 30 minuti Andiamo ad allargare un po' quella che è la nostra visione E vediamo che sì, attorno a 56 centesimi potrebbe esserci comunque questo livello di resistenza Che potrebbe essere rotto Perché parliamo così ormai, potrebbe essere rotto con un nuovo tweet Quindi ormai si lavora e si ragiona in termini di tweet di Elon Si vocifera anche sulla rete che Elon stia anche producendo E stia iniziando a lavorare sulla sua personalissima cripto Ci sono alcuni che dicono sempre che lui è il DOGE FATHER E si è incentrato su quello Altri che appunto parlano della cripto Perché anche, diciamo, vi ricordo che lui non ha solo Tesla Ma anche con il discorso di PayPal negli scorsi anni Aveva provato ad introdurre una sua moneta Poi si era scontrato con il dollaro E quindi è rimasto un pochettino bloccato Nel frattempo andiamo a vedere, ecco, il discorso invece del Bitcoin Perché lui ha fatto quel post bellissimo dove dice Quel tweet bellissimo, andiamolo a riprendere Dove dice, insomma, che Tesla va a consumare tanto, bla 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 Ma pensate che l'abbia scoperto ieri Lui già le sapeva queste cose Si sapevano, le sapevano un pochino tutti Quindi veramente Andiamo a riprendere il grafico Veramente è abbastanza ridicola questa situazione qua Perché era saputa e risaputa E infatti dopo il crollo, cioè, non si sta riprendendo più di tanto Vediamo, non so se avete visto, ecco, anche nel video di ieri Vi dicevo che comunque bisognava attendere Vedere se avrebbe fatto nuovi massimi Ma nuovi massimi non ci sono stati O comunque, non nuovi massimi È un massimo più alto del massimo precedente Vediamo che la tendenza, seppur di poco, è a scendere Quindi stiamo andando in questa direzione qua I minimi anche iniziano ad essere decrescenti Si sta creando quello che è un vero e proprio channel Potrebbe essere È chiaro che poi bisogna andare a vedere più da vicino Qui stamattina ci ha avuto una spinta, diciamo così Rialzista, un istinto al recupero Bisogna vedere qua quello che succede E quanto questo recupero possa essere forte Quello che è chiaro è che il bitcoin comunque sta perdendo valore Sta perdendo potenza È chiaro che fare delle transazioni col bitcoin non è affatto semplice Ci sono tutta una serie di limiti L'etherium, per carità, le transazioni stanno andando avanti Ma sono costose E tutto questo poi ci porta al ragionamento successivo Che è quello di andare a valutare il discorso di Ada Cardano E nel frattempo, ecco, vi faccio vedere un attimo su BitInfoChart Quelle che sono le transazioni effettuate con Doge e Bitcoin Chiaro è che Bitcoin ovviamente è super dominante in questo grafico Ma nel momento in cui il Doge dovesse andare poi a superare O quantomeno ad avvicinarsi al Bitcoin Allora lì potremmo iniziare a tremare E a valutare il Doge come una delle future possibili crypto più utilizzate Per appunto queste transazioni anche su cui investire long term Ecco, diciamo così L'altro discorso è che, allora, andando a vedere Il ranking delle crypto Allora, se andiamo a vedere Praticamente Ada Cardano sta continuando a salire nell'ultimo periodo Basta anche dare un'occhiata rapida qui al piccolo grafico E quella è una delle crypto, diciamo così Che ha un ecosistema Diciamo fatto come si deve Cioè è proprio una delle crypto 3.0 E' addirittura per certi versi superiore Sia Ada che Dot Sono superiori a quello che è Ethereum Quindi su YouTube dappertutto si vedono video di presunti 100% Io non lo so se ci sarà il 100% Quello che so è che comunque in questi giorni in cui tutto è crollato Paradossalmente Ada Cardano ha ripreso, diciamo così, la sua salita E dove arriverà non lo sappiamo Cioè è chiaro che potrebbe arrivare a 50, a 100 dollari Ma potrebbe anche riscendere E faticare anche a rompere Quello che è il tetto dei 2 dollari Il fatto sta che Se uno vuole adottare una strategia di diversificazione Chiaro che Ci può iniziare a ragionare sopra E l'altra sempre che ha un bel progetto è Dot Ma Dot fatica veramente tanto ad ingranare Cioè sta sempre lì Sta sempre lì che non riesce a spingere E nell'ultimo periodo vediamo che Praticamente da febbraio Ad oggi continua ad essere il laterale Dopo che ha fatto un exploit Tra fine dicembre e appunto Fine febbraio Quindi che cosa aspettarci Stiamo a vedere Chiaro che ecco ci sono state Delle candelotte I candeloni rossi Però stiamo sempre lì Cioè più di un tot non va Più di un dot Questa era veramente triste E poi vi invito a tenere d'occhio Un'altra cripto Che invece è Kusama Perché Kusama è una delle nuove cripto Vediamo se c'è anche qua su TradingView Che non l'ho ancora guardato Che è basata Vediamo Ok è basata su tecnologie Derivate da Dot e da Ada E quindi questo ci conferma A maggior ragione Come negli ultimi Negli ultimi momenti Allora mettiamoci un grafico un po' più Ok Allora già a partire dall'11 maggio Quando qui tutto calava Cioè era la crisi tra La crisi della febbre Tra Bitcoin e E Dodge Che tutti Tutta l'attenzione di tutto l'universo Era concentrato su questi discorsi qui E vediamo come Il discorso invece qua Cambia totalmente Perché qui abbiamo a che fare Con un grafico Che sembra Non aver risentito Minimamente Di tutta la situazione attuale E anzi Continua a crescere Quindi Il ragionamento Che stavo facendo Proprio in questi giorni È quello di andare A riprendere un po' d'occhio Ad andare a rivalutare Tutte queste che sono Delle cripto Addirittura di Derivate Da altre cripto Di terza generazione Come possono essere Ada e Dot E iniziare a Ragionare anche in questa direzione Tra l'altro Il founder stesso Di Ada Cardano Adesso mi sfugge il nome Vediamo se lo peschiamo Ada Cardano Founder Charles Hoskinson Ok Allora Se facciamo così Twitter Vediamo eh Datemi un secondo E ve lo faccio vedere live Personaggio anche lui Comunque aveva fatto Un retweet Sostanzialmente Dove andava ad invitare Elon Musk A discutere Ecco poi Di quello che era La tecnologia di Ada Quindi Tutto ciò Non toglie che ci siano Sempre dietro Delle Delle manovre speculative Meramente speculative Ma anche che in realtà Ci sia la volontà Reciproca Da parte di Di Charles Di incontrarsi A mettersi al tavolino Con Elon E di andare un po' A valutare Quello che può essere Quella che potrebbe essere Una partnership Tra due magnati Tra virgolette Anche delle Delle criptovalute Quindi signori Come sempre Rimaniamo in attesa Vediamo un po' Quello che succede Vediamo come si muove Il mercato Andiamoci sempre Con i piedi di piombo E È un mondo Dove purtroppo Dobbiamo mantenerci Aggiornati quotidianamente E Altrimenti Rimaniamo sempre Con quei quattro spiccioli Che abbiamo in tasca E Vi invito a scrivervi Al canale Come sempre Se volete Ricevere l'aggiornamento Spero Quotidiano O altrimenti Ecco Ogni due o tre giorni E lasciate un commento Se il video vi è piaciuto Ciao Grazie